Il progetto della cabinovia non si ferma, si va avanti con fondi del Ministero. La fumata bianca è arrivata al termine dell'incontro romano fra il Sindaco di Trieste Roberto Di Piazza e i dirigenti del Comune insieme con i rappresentanti sia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che di quello dell'Ambiente. Nel corso della riunione i Ministeri hanno espresso la loro posizione in ordine alla possibile incompatibilità del finanziamento PNRR per opere che sono state sottoposte a una valutazione di incidenza di terzo livello, ancorché con esito positivo. I rappresentanti del Comune con i loro legali hanno contestato questa impostazione non supportata da alcuna esplicita disposizione normativa ma esclusivamente su di una interpretazione della risposta a una FAC che peraltro non fa alcun riferimento esplicito alla vinca di terzo livello. Le valutazioni del Comune sono peraltro supportate dagli studi effettuati dall'Università di Udine che non ha ravvisato nell'opera alcun elemento di danno significativo all'ambiente. I dirigenti del Ministero si legge nella nota del Comune anche al fine di evitare un contenzioso su un tema così delicato ma nel contempo per garantire il proseguimento dell'iter di un'opera considerata strategica dallo stesso Ministero ha prospettato la possibilità che il finanziamento avvenga mediante fondi ministeriali ordinari anziché con quelli del PNRR liberando così il progetto da una serie di vincoli temporali e procedurali. A tal fine il Ministero ha assicurato l'avvio di un'istruttoria diretta all'emanazione di un decreto che trasformi il finanziamento PNRR in un finanziamento ordinario. Allo stato attuale l'impianto a fune risulta ancora finanziato con i fondi precedenti e la procedura seguita risulta del tutto corretta. In considerazione di errate dichiarazioni rese a mezzo stampa e ricostruzioni non corrette sulla natura della lettera interna del MIT, prosegue il comunicato, l'amministrazione ritiene opportuno precisare che sia il finanziamento PNRR concesso dall'Europa e il Governo per questo tipo di infrastruttura non verrà perso dato che il Governo stesso lo potrà destinare ad altri progetti PNRR con le medesime finalità sia che i fondi ministeriali che andranno a coprire i costi dell'intervento saranno il frutto di una rimodulazione degli stessi tra i progetti in essere.